Nel prossimo servizio Olivia Soldi ci parla di un'iniziativa simile, quella della spesa sospesa in favore del popolo ucraino a mod del caffè sospeso che tanto di moda va a Napoli. Stiamo dando un aiuto alle persone che sono purtroppo vittime della guerra, hanno bisogno di tutto e di tutti, quindi anche noi vogliamo dare il nostro contributo e se anche voi volete dare il contributo acquistate qualche prodotto di prima necessità a pasta, poi lo depositate direttamente negli scatoloni che verranno consegnati poi alle associazioni. Gli agricoltori e consumatori toscani rispondono all'appello e vanno in soccorso della popolazione ucraina sott'attacco. La spesa sospesa nei mercati contadini di Campania Mica fa il pieno di aiuti e solidarietà. Nei punti allestiti nei mercati di Arezzo, Bibbiena, Pisa, Livorno, Siena, Grosseto e Pistoia, i clienti hanno acquistato olio extravergine d'oliva, pasta, passata di pomodoro, legumi, farina, riso, biscotti, confetture e tanti altri prodotti alimentari da inviare ai civili del martoriato paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare alle decine di migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia. In poche ore sono stati raccolti circa 15 quintali di generi alimentari di qualità, un'azione di solidarietà di Coldiretti e Campania Mica che scatta con i negoziati tra Ucraina e Russia sulla possibilità di corridoi umanitari per l'evacuazione dei civili, garantiti da un cessate il fuoco temporaneo nelle aree interessate, con la possibilità di consegna di cibo e medicine alla popolazione. La spesa sospesa riprende il modello dell'usanza campana del caffè sospeso quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta di frutta, verdura, formaggi, salumi e ogni tipo di genere alimentare made in Italy di altissima qualità e a chilometro zero. Iniziativa analoga era già stata organizzata durante la pandemia per aiutare le famiglie in difficoltà e anche in questa occasione la risposta dei consumatori toscani è stata ancora una volta ammirevole.